E' stato presentato ufficialmente sabato mattina presso il Baradone di Ponte Cagnano-Faiano il movimento giovanile Replay. A partecipare alla presentazione il coordinatore del movimento Replay Ponte Cagnano, Pompeo D'Amato, il tesoriere Stefano D'Amato, il coordinatore di Replay-Faiano, Umberto del Giudice, ed Andrea Paciullo, consigliere del Forum dei Giovani di Sarno. Un momento importante di confronto durante il quale sono stati illustrati i progetti in cantiere che saranno annunciati di qui alle prossime settimane. Questo movimento nasce proprio per i giovani per essere più vicini alle loro esigenze, alle loro idee e perché no non creare delle nuove alternative, dei progetti, delle iniziative sociali, sportive, culturali, qualsiasi cosa inerente ai giovani, per lasciare spazio soprattutto a loro. Replay è costituito dall'Associazione Sviluppo, dal direttivo dell'Associazione Sviluppo. Ringrazio il Presidente Marco Erra per questo incarico, questa grande responsabilità che ci ha dato. Io sono il coordinatore di Ponte Cagnano perché Replay ha due coordinatori. Io, Pompeo D'Amato, Ponte Cagnano e Umberto del Giudice Faiano. Ovviamente un'interlocuzione c'è anche con l'amministrazione. Sì, la cosa bella di quest'anno è che avendo un'amministrazione molto giovane su tanti punti di vista perché comunque i consiglieri e gli assessori sono molto propensi a dare tantissimo spazio ai giovani anche perché lo dimostra tanti eventi che già hanno fatto come Faville, come il Natale, la Magia del Natale che è stata una delle prime iniziative che ha convolto 15-20 associazioni tutte quante insieme. Questo non può fare altro che tanto piacere. Infatti già con l'amministrazione c'è un caloroso rapporto di collaborazione che ci hanno dato la porta aperta per qualsiasi progetto e iniziativa da valutare insieme con tutti i buoni propositi di regalare ai giovani dei momenti di supporto perché quello che fa l'amministrazione è dare supporto a noi giovani quindi ci sono tutti i presupposti per fare una grandissima squadra ma con tutti gli amici di Ponte Cagnano, con tutte le associazioni presenti sul territorio. A Faville vorrei cercare di ridare quel senso che già appartiene a noi perché noi siamo molto legati tra di noi a Faville, c'è un'unione soprattutto tra noi ragazzi giovani e voglio riuscire a trasportare questo ideale che abbiamo noi, un po' più grandi anche ai ragazzi un po' più piccolini per mantenere questa nostra unione faianese che ci permette di fare progetti importanti come il Palio, come il Circoliamo e soprattutto aiutare le associazioni di Faiano che si impegnano come l'associazione Sviluppo della quale io faccio parte, che si impegnano a dare un senso civico al nostro paese, alla nostra comunità. L'obiettivo è far restare i giovani sul territorio? Sì, l'obiettivo è quello di far restare i giovani sul territorio, è quello di riuscire a far ritornare le persone che sono fuori nel nostro territorio per darci una mano con le loro idee. Questo è quello che vogliamo creare, è un nuovo mondo soprattutto per Faiano, una nuova visione del nostro paese.